Allora amici, siamo a Mod Pizza per un unboxing di una pizza molto buona, la pizza salad, che in Italia non c'è, non c'è. Eccola, guardate che bella, come è invitante la pizza insalata. Vedamente c'è un'insalata che gli ho detto come la volevo, funghi, carciofili, pomodori. Sopra una base di pizza col formaggio senza pomodoro, facciamo subito l'unboxing allora, come si mangia, boh? E' dolce, eh? Wow! Allora, i cani, e se si dopo. Allora, ok. Allora, ok. Ok, ecce, ok. come mangiare un'insalata come mangiare un'insalata come mangiare un'insalata asciende no it sonte c'est ce traîn c'est ce que je suis allli une Si sente l'Asia Gucise, veramente molto giubile. Si sente l'Asia Gucise, è stato un po' di più, ma è stato un po' di più, ma è stato un po' di più, ma è stato un po' di più. Ma è stato un po' di più, ma è stato un po' di più. Ma è stato un po' di più, ma è stato un po' di più. 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 ma è stato un po' di più.